il prossimo brano è un brano conosciutissimo è un brano che fu scritto da una ragazza aveva vent'anni non aveva mai baciato nessuno questa ragazza e allora poteva solo immaginare come poteva essere così il primo bacio secondo me Consuelo Velázquez mai e poi mai si sarebbe immaginata di scrivere un successo planetario Besame Mucho che tengo miedo perderte perderte amor besame 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 come si fuori questa notte la ultima vez besame besame mucho che tengo miedo perderte perderte otra vez quiero tenerte muy cerca a mirarme in tus ojos verde junto a mi piensa che tal'è spagnolo io già sarò lejos, molto lejos di ti besame 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 come si fuori questa notte la ultima vez besame 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 aus us as es gebracht o e as e Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie.